Siamo qui con Nicola Schaffler, che stia cricendo perché... Nicola, che riuscita, non devi cricere perché devi essere orgogliosi di te. Hai fatto un lavoro incredibile oggi, nel pre-final e nel final, anche. Era un weekend molto emozionale per me, perché per sicuramente avevamo delle difficoltà in the heat, perché due volte avevamo riusciti, le altre due finavamo prima e seconda, ma è molto emozionale, perché è stato l'ultimo weekend, quindi ho dovuto fare la mecanica per due anni, e ora è stato l'ultima riuscita con lui. E anche, è stato un buon riuscito, e oggi sono troppo emozioni per me, per ora. Ma hai fatto un lavoro incredibile, credo. Ho visto molti riusciti nella mia vita, ma questa è stata una buona. Grazie. Grazie.